Sono incinta di sei mesi Già di sei? Sei mesi Ho preso una L di questa qua Così c'è anche abbastanza spazio Oddio Sono stanca Io ho il mio cuscinone qua per la gravidanza Che mi sta facendo compagnia In queste sere delle ultime settimane L'ho preso su Amazon e lo trovo molto utile Ciao amici bentornati sul mio canale Buongiorno Buonasera amore Allora amici sono incinta di sei mesi Già di sei? Sei mesi No aspetta Sei mesi amore 24 settimane sei mesi Pancino sei mesi La pancia cicciona mia pancina Hai ragione Hai vedere anche la mia pancia scusa mia Ah scusa Da una quantità di calcetti Che anche Pietro li sente tutti E' una cosa incredibile Se tengo la mano Se la sono risetto Io oggi volevo condividere con voi La nostra routine serale Prima di andare a letto Incinta di questi sei mesi Sicuramente è un periodo un po' particolare E quindi volevo documentarlo Allora prima di cominciare la night routine Volevo ricordarvi che i biglietti Per la mostra evento Stravaganza imperiali Sono in vendita adesso Quindi andate sul sito www.mymuseum.it Per prendere il vostro biglietto Potete leggere il programma della serata Vedere tutte le fotografie Le immagini delle installazioni E vivere un'esperienza unica Quindi andate a vedere il sito Ragazzi Cioè io Anche io voglio fare un attimo Un punto della situazione Perché questa mostra Non è una mostra È un evento eccezionale Non potete non andare È un potete È un potete È un potete È un potete Amore prima di cominciare questa night routine Io ho bisogno di bere qualcosa Io tipicamente sono colui che cucina Mentre chi sparecchia tipicamente sono sempre io Vorrei aprire una parentesi su questa questione Questa è una verità Da quando però io sono incinta E sto facendo crescere tuo figlio Quindi la sera sono decisamente stanca E ho faticata Ho bisogno di farmi la doccia Anche tu hai bisogno di farmi la doccia E farmi la doccia in questi mesi La gravidanza e la sera È sempre un momento un po' Critico perché sono stanca Mi fa male la schiena Non ho più voglia di fare niente Però è importante Perché così mi lavo E poi mi metto bene tutta la cremina sulla pancia Sono puzzi Quindi No Quello che puzza sei tu E infatti Tu sarai il primo a farci la doccia Però Rande Hai il culo Che la nostra doccia ha il seggiolino Quindi puoi sedere È vero Abbiamo una doccia Vi metto una foto Che ha il seggiolino Allora ragazzi Intanto che Pietro è di là A farsi la doccia Io vengo in bagno A struccarmi Ho notato che durante la gravidanza La pelle mi è diventata molto più secca Del corpo in particolare Ma anche del viso Soprattutto la zona intorno alla bocca Intorno al naso Secchissima E anche la zona qua delle guance Quindi sono molto più attenta in questo periodo Di mettermi la crema solare la mattina E ho notato che fa già tutta la differenza Prima mi stavano iniziando a venire Delle macchie rosse proprio su tutte le guance E ho visto già che sono scomparse E non stanno tornando Quindi crema solare E ora però devo togliere tutto questo ombra d'anda alla faccia Quindi volevo parlarvi dello sponsor del video di oggi Che è Ego Che fanno questi prodotti per la pulizia del viso Che mi sto trovando benissimo È già qualche settimana che lo uso In particolare la crema detergente La sto adorando Ha il 99% degli ingredienti di origine naturale È anche vegana E non ha profumi Che per me Che ho la pelle sensibile Ci tengo tantissimo I prodotti che uso per la pelle Che non abbiano profumazioni Per struccarmi uso queste salviettine qua loro Che non devi metterci nessun prodotto Basta che bagni con l'acqua tiepida Guardate come esce Senza nessun prodotto Solo la salviettina Che poi si può lavare Mi fa piacere Mi fa piacere E adesso è il mio turno Di farmi la doccia Quindi amici Ci aggiorniamo dopo Stiamo per risolvere Un grandissimo problema Degli ultimi tempi E la difficoltà Di questi ultimi mesi Della mia night routine È stato Il pigiama I pantalocini del pigiama Non mi stanno più Ho iniziato a usare I pantalocini del pigiama di Pietro Non mi stanno più Neanche quelli E poi la ginecologa mi ha detto Di dormire senza mutande Ma con dei pantaloncini Per lasciare la zona di sotto Respirare E oggi risolveremo Questo problema Definitivamente Allora vi faccio vedere Gli acquisti che ho comprato Di pigiami da H&M Allora primo pigiama Che ho preso da H&M Questo qua Mi piace tantissimo È tipo in Spugnettina E Mi piaceva che era il top Però le tanto fa caldo Così la pancia cresce Non ha problemi E i pantaloncini Li tengo sotto Così non mi dà fastidio Ho preso una L Di questa qua Così c'è anche Abbastanza spazio Allora il secondo pigiama Mi piace tanto Che è questo verdino salvia E questo invece È della collezione Premamam Di H&M I pantaloncini Hanno la fascetta Vi metto nella descrizione I link Per questi pigiomini Super carini Questo invece È il pigiama dell'amore Con tutti i cuoricini I pantaloncini Sono mega comodi Perché non tirano per niente Che la cosa più importante È che Non tirino qua Nella fascia di sotto Della pancia Anche questo mi piace tanto Per l'estate Con questo colorino Super Poi ho preso Questi pantaloncini qua Super comodi Che vengono sia In questo colorino Che in questo grigio Più scuro Poi ci ho abbinato Questo toppettino qua Che avevo preso sempre Dai H&M Che così sono comoda E adesso non avrò più Problemi di pigiami Oddio Sono stanca Io ho il mio cuscinone qua per la gravidanza Che mi sta facendo compagnia In queste sere delle ultime settimane L'ho preso su Amazon E lo trovo molto utile Amici adesso Facciamo, ci prepariamo una cenetta Io mi riposo un attimino qua sul divano E poi andremo a guardare Un filmettino Abbiamo iniziato a vedere La serie Outlander Mi sta piacendo molto I primi episodi, un po' lentina Però ci sta Ah ma non usciamo a cena? No oggi non usciamo a cena Perché no? Perché mangiamo a casa sostanzialmente Non ho voglia di cucinare Questo è tutto per il video di oggi amici Perché la night routine In questi mesi Finisce molto presto Perché io alle 9 e mezza sono a letto a dormire Quindi adesso mangiamo E poi andiamo a letto Vi ricordo di andare sul sito di www.mymuseumportwit Per vedere i vostri biglietti O anche sul sito di Ego.com E adesso amici È arrivato il momento di andare a riposare Amore cosa mi prepari per cena? Oggi c'è il digiuno Ma come il digiuno? Fammi nel bambino Ma cosa? Se non ha chiesto di ciò Sì Iscriviti al nostro canale